I fratelli Max stavano preparando un film intitolato Una notte a Casablanca, quando la Warner Bros, che cinque anni prima aveva prodotto il film Casablanca con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, minacciò di intentare un'azione legale contro di loro. Allora Gruccio, a nome dei suoi fratelli e proprio, rispose così Il nostro annuncio, riceviamo la vostra lunga, ominosa missiva, che ci intima di non usare il nome Casablanca. Sembra che nel 1471, Ferdinando Balboa Warner, il vostro bis, bis, bisavolo, mentre cercava una scorciatoia per la città di Burbank, capitasse per caso sulle coste dell'Africa, E levando in aria il suo Alpenstock, barattato poi con un centinaio di acri di terra, battezzasse quel luogo Casablanca. Non riesco proprio a capire il vostro comportamento. Anche se intendete rispolverare il vostro film, sono sicuro che con il tempo lo spettatore medio imparerà a distinguere Ingrid Bergman da Harpo. Io non so se ci riuscirei, ma di sicuro mi piacerebbe provarci. Voi sostenete di essere i proprietari di Casablanca e vietate a chiunque di usare questo nome senza il vostro permesso. Ma come la mettiamo con Warner Brothers? È vostro anche questo? Probabilmente avete il diritto di usare il nome Warner, ma fratelli. Professionalmente noi siamo fratelli da molto più tempo di voi. I fratelli Marx se la sgavettavano in giro per i teatri, quando il vitafon era ancora un sogno proibito nella mente del suo inventore. Ed il resto prima di noi ci sono stati altri fratelli. I fratelli Lumière, i fratelli Karamazov, Dan Fratelli, un esterno che giocava nel Detroit, e la canzone Fratello, ti avanza un nichelino? Che originariamente si intitolava Fratelli, vi manca un nichelino? Ma siccome un nichelino in due era da pidocchi, hanno buttato fuori un fratello e preso tutto il malloppo all'altro. E tu, Jack, credi che il tuo sia un nome originale? Ebbene, non lo è. Si usava molto tempo prima che tu nascessi. Lì per lì mi vengono in mente due, Jack. Quello di Jack e la pianta di fagioli, e Jack lo squartatore. Una figura di portata storica veramente incisiva. Quanto a te, Harry, probabilmente firmi i tuoi assegni senza ferma convinzione di essere il primo Harry di tutti i tempi. Gli altri sarebbero impostori. Ma io ricordo due Harry che ti hanno preceduto. C'era Harry del Faro, di rivoluzionaria memoria, e un Harry Appelbaum, che abitava all'angolo fra la novantatreesima strada e Lexington Avenue. Purtroppo, Appelbaum non era molto noto. L'ultima volta che ho sentito parlare di lui, vendeva cravate da Weber e Heil Blohner. E veniamo allo studio Burbank. È così che voi, fratelli, chiamate la vostra sede, mi pare. Il vecchio Burbank non c'è più. Forse vi ricordate di lui. Era un asso del giordinaggio. Sua moglie soleva ripetere che Luther aveva dieci pollici verdi. Che donna spiritosa doveva essere. Burbank era il mago che a forza di incrociare frutti e verdure li rendeva talmente scombinati e nevrotici che non sapevano mai se entrare in sala da pranzo sul piatto dei contorni o su quello del dessert. È solo una congettura, si intende. Ma chissà. Forse i discendenti di Burbank non vedono il buon occhio quella fabbrica che si è messa a sfornare pellicole cinematografiche nel territorio della loro città, appropriandosi del nome Burbank e usandolo come copertura. È perfino possibile che la famiglia Burbank vada più orgogliosa della patata prodotta dal vecchio che non dei vostri Casablanca o magari Gold Diggers del 1931. A quanto pare mi è venuta fuori una bella filippica. Ma vi assicuro che non ne avevo l'intenzione. Io adoro la Warner. Alcuni dei miei migliori amici sono nella Warner Brothers. È perfino possibile che io stia commettendo un'ingiustizia nei vostri confronti e che voi, poverini, siate estranei a questo comportamento da botoli ringhiosi. Non mi sorprenderebbe affatto scoprire che i capi del vostro ufficio legale sono all'oscuro di questa assurda diatriba, giacché io sono in buoni rapporti con molti di loro e si tratta di brave persone con i ricci neri completi doppio petto e un amore per il prossimo che è più saroyaniano di saroyan. Ho la sensazione che questo tentativo di impedirci di usare il titolo sia stato partorito dalla mente di qualche azzecca garbugli dal musetto aguzzo che sta svolgendo un breve apprendistato nel vostro ufficio legale. Lo conosco bene quel genere. Fresco fresco di università, affamato di successo e troppo ambizioso per seguire le naturali leggi della promozione. Questo scellerato causomane ha probabilmente istigato i vostri avvocati che sono per lo più brave persone con i ricci neri completi doppio petto eccetera a tentare la diffida. Ebbene non la passerà liscia. Gli daremo battaglia fino all'ultimo appello. Nessun esangue avventuriero legale riuscirà a spargere zizzania fra i Warner e i Marx. Dentro di noi siamo tutti fratelli e rimarremo in armonia fino a che l'ultima bobina di Una notte a Casablanca avrà terminato di svolgersi sul suo rullo. O segui. Grucio Marx Per qualche strana ragione questa lettera parve sconcertare l'ufficio legale della Warner Brothers che in tutta serietà rispose ai fratelli Marx chiedendo lumi sulla trama del loro film. La lettera lasciava intendere che si poteva arrivare a un accordo. Perciò Grucio replicò Cari Warner Sulla trama del film non posso dirvi molto. Io faccio la parte di un dottore in teologia che somministra conforti spirituali agli indiseni e nel tempo libero piazza apriscatole e giacche marinare ai selvaggi della costa d'oro africana. Quando incontro Cico per la prima volta lui lavora in un saloon dove vende spugne ai beoni che non reggono l'alcol. Arpo è un caddiarbo che abita dentro una piccola urna greca un po' fuori mano. All'inizio del film Porridge zuccherosa indigena affila un po' di frecce per la caccia. Paul Sbevazza il nostro eroe continua ad accendersi due sigarette alla volta. Evidentemente non sa che le sigarette scarsezzano qui. Ci sono molti millimetri di magnificenza a cerrimi contrasti in un'orgia lussurreggiante di colore. Colore è un fattorino abissino. L'orza non so se ci siete mai stati è un piccolo nightclub appena fuori città. Potrei dirvi ben altro ma non voglio guastarvi la sorpresa. Il tutto ha ricevuto l'approvazione dello High's Office di tutto uncinetto e dei superstiti dei moti di High Market. E se i tempi sono maturi questo film potrebbe essere la scintilla che farà scoppiare un nuovo disastro mondiale. Cordialmente Gruccio Marx invece di assicurare gli avvocati questa lettera parve sconcertarli ancora di più. Risposero che continuavano a non capire il succo della vicenda e che sarebbero stati grati al signor Marx se questi avesse voluto diffondersi maggiormente in particolari. Gruccio si disimpegnò come segue. Cari fratelli mi spiace dirlo ma dall'ultima volta che vi ho scritto nella trama del nostro ultimo film Una notte a Casablanca sono sopraggiunti alcuni cambiamenti. Nella nuova versione io sono Bordello la fiamma di Humphrey Bogart. Harpo e Cico sono venditori ambulanti di tappeti i quali stufi di srotolarli entrano in un monastero così per sport. Ma sono loro a rimanere giocati perché in quel luogo non si pratica nessuno sport solo ritiri. Al porto a un tiro di schioppo dal monastero c'è un albergo stralipante di rubiconde donzelle molte di loro sono state denunciate dal High's Office per adescamento. Nella quinta bobina Gladstone pronuncia un discorso che mette in subbuglio la camera dei comuni e il re chiede le sue dimissioni seduta a stante. Harpo sposa il detective di un albergo. Cico gestisce un allevamento di struzzi. La ragazza di Humphrey Bogart Bordello finisce per diventare una Baccal Girl e morire lì. Come vedete si tratta proprio di un sunto a grandi linee. Potremmo salvarci dall'estinzione soltanto se la pellicola continuerà a scarseggiare. vostro affezionatissimo Gruccio Marx dopo questa lettera i fratelli Marx non ebbero più notizie dall'ufficio legale della Warner Brothers. Grazie a tutti. Grazie a tutti.